Non ci si può non aggrappare, insomma, 13 giocatori fuori, voglio dire, il nostro organico non è certamente inferiore a quello della Juventus. La Juventus ha a disposizione di tutti i suoi giocatori, non ne abbiamo 13 fuori e quindi se loro, non avendo infortuni, possono partire con De Piero e Borriello e sostituirli poi con Vucinici e Quagliarella. Noi, voglio dire, stando all'attacco avremo anche noi, il signor Pato e il signor Cassano, purtroppo sono fuori, se pensiamo che a centrocampo ne mancavano otto questa sera, è difficile, è difficile perché devono giocare sempre gli stessi, non ci sono cambi e quindi diventa tutto difficile, anche se abbiamo fatto una partita non male, voglio dire, ma certamente poi paghi giocando ogni tre giorni e sempre con gli stessi giocatori per via di 13 infortunati. E' un momento difficile, ce l'abbiamo avuto anche all'inizio del giro d'andata, evidentemente all'inizio dei gironi poi recuperando i giocatori abbiamo fatto il filotto che abbiamo fatto, quindi auguriamoci che succeda questa cosa anche al giro di ritorno.